Siamo veramente ai minuti di inizio di questo spettacolo, tra pochi minuti inizierà, ha condiviso con noi tutto il pomeriggio, tutto il backstage, Mirko Roppolo di Radio 3 Network. Allora Mirko, Enrico Ruggeri sta per salire sul palco, cosa ne pensi? Beh, sicuramente una bella esperienza perché il concerto per la vita poi qui a Castelnuovo al Dicecena è molto interessante. Poi insomma io ero molto emozionato, vi dico la verità, perché insomma andare ad incontrare una personalità, un personaggio così importante della musica italiana e non solo perché abbiamo visto anche lui, ultimamente sta facendo un sacco di cose, sta facendo l'autore di libri, programmi televisivi eccetera eccetera, quindi è un artista sempre più completo, è una bella emozione. Credo che sia una bella esperienza perché pian pianino stanno arrivando sempre più persone, quindi una realtà come Castelnuovo è interessante, infatti ogni anno cerchiamo di seguire con la radio questo evento, questa manifestazione anche per cogliere qualche voce dal backstage, quindi anche io sono emozionato Pietro, davvero una bella esperienza. Una bella esperienza, un bell'artista e soprattutto anche un bel pubblico, veramente lo stadio di Castelnuovo si sta riempendo a pochi minuti dall'inizio di questo concerto.